L'accoglienza non è delle migliori, eppure Beatrice Lorenzin è il terzo ministro della salute che nell'intera storia della Repubblica venga a fare visita a Frosinone. Ad attenderla davanti allo Spaziani ci sono tutte le sigle sindacali, le associazioni di volontariato, gli allievi della scuola per infermieri, ognuno con una richiesta, una ragione di protesta. Il grido all'ingresso in ospedale è, ministro, restituisca dignità ai malati. Il ministro visita per primo il pronto soccorso. Io ho accompagnato personalmente il ministro nel reparto del pronto soccorso, ha verificato, lei ha preso contezza personalmente dello stato in cui noi stiamo, c'è il grande senso di responsabilità del personale anche sottodimensionato notevolmente, il ministro si è reso conto di questo stato, noi speriamo che il governo possa mettere in atto i giusti provvedimenti. Poi il ministro visita i reparti, primo tra tutti ematologia, quindi riceve l'associazione di volontariato che espongono le loro richieste. Desideriamo richiamare all'attenzione del ministro sul pronto soccorso di Frosinone per mettere fine a una vergogna non più sopportabile. Tutto bello, tutto pulito e non va bene perché se non gli facciamo vedere le cose brutte, i provvedimenti non verranno. Nel frattempo nell'atrio si riuniscono i ragazzi della scuola per infermieri, chiedono lo sblocco delle assunzioni, certezza per il loro futuro, rischiano di prendere una laurea che tra poco servirà a nulla. Un giorno saremo laureati e purtroppo i posti di lavoro sono pochi. Volevo fare una notazione, diciamo solo nella regione Lazio ogni anno si lavorano mediamente 3.000 infermieri, parlo solo della regione Lazio. I concorsi pubblici mediamente sono 5.000 iscritti per 15 posti, quindi diciamo basta fare un calcolo per capire che siamo messi male. Tutte cose che alla fine sono state fatte notare al ministro che ha assicurato ne prenderà atto.